Fun! Numbers! Wow! Non avevo mai visto un Digimon come quello! Come mi hai chiamato? Come osi insultare il mio Pikachu? Cosa? Che ho detto? Tienimi fermo Ash! Lo sto facendo Pikachu! Tienimi fermo prima che faccia qualcosa di pericoloso! Ti sto già tenendo! Oh, aspetta! Tu non sei un Digimon, dico bene! Hagumon! Andiamoci dentro, dai! Che Charmander davvero strano! Hagumon! Digi Evolve! Braymoooooon! Pikachu! Evolve! Già, bel tentativo Ash, non mi evolverò mai! Si, lo so Pikachu, ma loro l'hanno fatto, quindi ho voluto provarci anch'io! Crisco santo buco nel terreno, cos'è stato? Pikachu, linguaggio! Cosa? Ho solo detto Cristo santo buco nel terreno! Non è colpa mia se l'hanno censurato per sbaglio! Ehi, non è giusto! Avresti dovuto annunciare il tuo attacco per darci una chance di contrastarlo! Sono le regole! Certo, come no! Perché mai dovrei annunciare il mio attacco per darvi una chance di contrastarlo? Graymon, usa Mega Meteora! Non mi hai fatto niente! Non temere Pikachu, ho un piano! Qual è il piano Ash? Prendete lui! E' stato lui a dire che il tuo Digimon fa schifo, sembra uno strano Charmander e che forse puzza tantissimo! E mi ha anche detto di essere andato a letto con il suo voglio! Aspetta! Ma che? Aspetta! E' stato un piano geniale Ash! Certo, ovvio Pikachu! Sapevo esattamente che il mio lancio li avrebbe stesi entrambi! Cosa? No! Intendevo che è stato un ottimo piano lanciarmi contro il suo Digivice! Così che fossi abbastanza vicino da usare la mia elettricità provocando un malfunzionamento! Chi vuoi prendere in giro Pikachu? Sappiamo entrambi che sono troppo stupido per scogitare un piano come quello! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti voi cosa preferite? Digimon o Pokémon? Scrivetecelo qui sotto avanti dai! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo!